Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo video su Nintendo Switch La mia serie dove vi porto i migliori giochi più attesi su Nintendo Switch per l'appunto Ed è una serie dove proviamo per la prima volta appunto questi titoli in uscita a brevissimo o già usciti Nel caso di oggi stiamo provando Dark Souls Remastered Network Test Version Insomma, una versione che è stata rilasciata da pochissimo e che era disponibile soltanto venerdì, sabato e domenica per l'utilizzo Dalle 19 alle 23 di sera È un network test per capire un po' meglio come funzioni il gioco Io francamente non ho mai giocato nessun Dark Souls L'ho giocato tipo pochissimo a casa di un mio amico su una Playstation e non mi ricordo francamente neanche in tasti Come potete capire facilmente Cambia riga con ZR e ZL Ok, qua ci fa capire subito l'accordo finale per l'utente E accettiamo Aia, 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 vedo già una grossa differenza Per la Nintendo Switch Il tasto A Quindi il tondo della Playstation è ok Nel caso della Playstation invece è la X Che sarebbe il tasto B qua E non hanno sistemato questo Questo secondo me è grave Questo secondo me è una gravissima mancanza Ok, madò Nuova partita Sistema informazioni Nuova partita Quindi in sostanza mi devo abituare a quest Comunque abbiamo Soldato, Cavaliere, Mago Piromancer Guerrero della Luce E Guerrero della Notte Allora Intuisco facilmente che già ogni personaggio abbia una build diversa Black Knight mi sa di Guerrero che picchia tantissimo ma ha poca difesa Guerrero Sunlight mi sa molto di persona che loda un po' troppo il sole Ma io direi che andiamo Cavaliere Tizione divino Richiesto per evolvere le armi Ok, perfetto Va bene Questo è praticamente il Il Diciamo il caricamento Allora visto che molti sul web comunque si sono lamentati di questo gioco Dicendo che la grafica era Molto più simile A quello che è stato Dark Souls In sintesi il porting Però Non mi sembra male Allora vediamo un attimo i tasti Con R1 attacco Con R2 Faccio quest'altro attacco L1 mi paro L2 è una specie di Perry Ma suppongo sia il Perry Con Y Bevo Con questo metto via le armi No, la prendo a una mano Ok, perfetto Ok Ma do lentissimo Accendi falò Attraverso il falò Suppongo che possiamo salvare Ok, il falò è stato acceso Come potete facilmente intuire Io non ho mai 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 Giocato A un Dark Souls In modo Approfondito Leggi messaggio Leggi messaggio Ok, dov'è Leggi messaggio Ok, questo è il tutorial Perfetto Ti fanno un breve tutorial Man mano che vai avanti Suppongo che la strada sia questa Allora Graficamente parlando Non mi dispiace Pensavo girasse decisamente peggio Sì Mi aspettavo molto molto peggio Considerate il fatto che io Lo sto giocando in modalità tv Mi sembrano comunque 30 fps Se mi sbaglio Siete liberi di correggermi Però come potete intuire Mi è difficile capire Ok Eh, sono appena stato colpito In modo anche abbastanza barbaro Però Ho sconfitto un nemico Sono sicuro che se vado qua Muoio malissimo E noi vogliamo morire malissimo? No, assolutamente Vogliamo proseguire la nostra avventura Per capire un po' meglio Io questa cosa me la ricordo Io questa cosa me la ricordo Non so perché ho ricordi vaghi Ma ho ricordi Ok Scudo Sopra Ok Perfetto Un po' troppi nemici per i miei gusti Ok E uno è sistemato Stiamo attenti Situazione un po' pericolosa Ok Benvenuto nel mondo dei Dark Souls Adesso vedrò per la prima volta Eccolo lì Il memino Sei morto Vai col meme Sei morto Allora Partendo comunque da un presupposto Puramente tecnico Non avendo mai giocato al gioco Non posso dire altro Vedendolo su altre console Ovviamente una piccola differenza Di percezione C'è Non mi sembra Che giri benissimo Ma da quello che mi ricordo Se non mi ricordo male Già nelle prime versioni Su PS3 E Xbox C'erano dei punti Dove il framerate Calava a 15 15 E spesso anche meno No Volevo fare un parry Ma Con scarsi risultati Ok Non ce l'ho fatta Ok E' fichissimo Però sto gioco Cioè E' tipo Complesso come poche cose Poi ci sono Vabbè Vari utenti Sul Sul web Che gestiscono Molto molto meglio Di me Una ipotetica serie Basti pensare a sabaccuno Mai Però visto che ci sono Io Ah qua non mi potevo buttare Però posso salire Da qui posso salire Una cosa Vedi le ombre Allora guardate Guardate Ombre e luci Non sono gestite così male Anzi A me sembra molto giocabile Molto godibile Come esperienza Adesso ovviamente siamo all'inizio Bisogna vedere in punti più articolati Però di base Cioè vedete che la grafica E' buona E' buona Ricordiamoci che sta giocando Sta girando su una Su un simile tablet Ci sto giocando Su un simile tablet Ok Certo che potevi avvisarmi Un attimino Che c'era questo tizio qua Raga Sei minuti Già due morti Credo che sia un nuovo record Per il mondo di Dark Souls Insomma Ci sto facendo il callo In molti mi avete chiesto una serie Però come potete intuire Non avrebbe senso Dovrei fare un gioco da zero Quando già sul web Ci sono serie molto più interessanti E molto gestite Ci siete molto meglio Basti pensare Come vi ho detto prima Sabaku No Maiku Esperto Dei Souls Eccetera Volevo fare anche un altro video Dedicato Al mondo di Dark Souls Per quanto mi riguarda Aspetta Ok perfetto Dedicato al mondo di Dark Souls Per quanto mi riguarda Un punto di vista Pretamente tecnico Rispetto a quello che ho letto Ma penso che vi dirò Le mie opinioni qua Io sono molto Rattristato dal fatto Che questo gioco Abbia tardato così tanto Ad uscire E francamente Non capisco neanche Il motivo Di questo ritardo Così grave Così gravoso Io qua Scappo miseramente Correre non si può Suppongo Sono abbastanza pesante Quindi non Non è possibile Come cosa Tanto non ce la farete A prendermi E ce l'avete fatta E vabbè La vita è fatta Anche di questi momenti Un po' tristi Ciao Sono qui dietro Cosa devo fare Lol You can't Picchiare me Eccolo lì Mi ha visto Mi ha visto Mi ha visto Allora Animazioni Grosso modo Stiamo comunque parlando Di un gioco Di Quanti anni fa Tanti Ah Ti butta giù Anche se hai Lo scudo Praticamente questo sarà Un video di me Che muoio X volte Allora Partendo dal presupposto Che ha tarato così tanto Possono succedere due cose O venderà un sacco Perché è a distanza Molta a distanza Dalle altre versioni O vendrà pochissimo L'uscita di questo gioco Era prevista per il giorno Seguente Alla Remastered Sugli altre Sulle altre piattaforme PS4 Xbox One Ma in questo caso Dato che è uscito Molti mesi dopo Le persone che volevano giocarlo Dato che la Switch Non è l'unica console Nella casa di molti Probabilmente non l'hanno giocato E non sono assolutamente Interessati All'acquisto O magari Non l'hanno giocato Lì sopra E Non l'hanno giocato Lì sopra Non interessa in generale Insomma una serie di Eventualità Una serie di cose Che mi fanno intuire Che o venderà tantissimo Perché la gente Non l'ha comprato Su quelle piattaforme Per giocarlo su Switch O Caso diverso Ancora più grave Aspetta Provo a spaccare un attimo Questo mostro Che non è propriamente Un mostro Un non morto Oh No aspetta Io incontro in sospeso Col tizio sopra Nel frattempo Mi godo ancora un po' Le Il mio design Dello scudo Allora Qua sopra c'è il tizio Adesso bisogna vedere Se il tizio è Estremamente forte O sono io Estremamente scarso Non ci metterei la mano Sul fuoco Con il fatto che sia Io semplicemente scarso Ok L'ho parato No Non l'ho parato Sono semplicemente morto Un giorno ci riuscirò A batterti Caro amico Benvenuto nel fantastico Mondo di Dark Souls Già leggo i commenti Ah sei nabbo Ah sei scarso Ah non sai giocare Beh direi grazie al capo Era la mia prima avventura Qua su Dark Souls Elmo del Cavaliere Nero Quando Lord Gwyn Partì per veicolare il fuoco Ah quindi praticamente Vabbè Dirà che c'è un sacco di lore Questo lo sapevo già Di lore Come vogliamo chiamarlo Un sacco di storie Un sacco di background Tutte queste cose Che già sapevo Perché Insomma Qualche gameplay Me lo sono seguito Così Un po' Disfuggita Comunque Quindi non so Potrà vendere Come potrà non vendere L'uscita mi pare Si è stabilita Per ottobre 40 euro Ci sarà disponibile Anche l'amiibo di Soler Day 1 per me L'amiibo di Soler Day 1 No ma vedi Io sbaglio Perché Non so per quale motivo Sono convinto Che io possa attaccare Con altri tasti No Ah esageratamente Troppa vita per me Si Troppa vita Ok Pariamo Pariamo Il trucco è parare Ok Scappo Ciao Me ne vado via Ciao Ciao belli Ciao Non mi avrete mai Non di nuovo Perlomeno Allora Vi ho fatto vedere Le fasi iniziali del gioco Perché io non so proseguire Francamente Mi ci dovrei spaccare Non poco Per capire un po' Tutte le meccaniche del gioco Comunque Come potete intuire Funziona alla grande Non ci sono problemi Il frame rate Mi sembra abbastanza stabile Per queste prime fasi di gioco Porting Ben più che accettabile 40 euro Si rivale A mio parere Si Come vi ho detto Day 1 Almeno per l'amiibo Ah mi insegue Cioè proprio cattivo Ti insegue alla grande Chi hai? E niente Io chiuderei qua Sulla schermata Sei morto Vi ringrazio per la visione Ho fatto questo video Semplicemente per la maggior parte Di voi che volevano vedere Il gioco Qua su Nintendo Switch Ovviamente non è una dimostrazione Di me che sono forte Perché non sono assolutamente forte Sono scarsissimo Ma è abbastanza intuibile In ogni caso Vi ringrazio per la visione Vi ringrazio per il mi piace Fatemi sapere nel box dei commenti Se vi piace come hanno gestito Questo porting Se avete intenzione Di comprarlo su Nintendo Switch Se pensate che possa valere Effettivamente I soldi 40 euro Insomma Fatemi sapere un po' tutto Cercherò di rispondere Alla maggior parte di voi Mi raccomando Grazie mi piace Grazie dei commenti E noi ci vediamo Ciao